Il giorno dopo in città si respira aria di festa, l'Aquila sarà capitale della cultura 2026 e ne sono tutti contenti. Un risultato che arriva al secondo tentativo con la città che ha sbaraiato la concorrenza di altre nove finaliste. Nel concreto sul piatto ci sarà un milione di euro per raggiungere gli obiettivi. Imperativo ora lavorare per farsi trovare pronti, ma è negabile che questo riconoscimento porterà dei vantaggi. Speriamo che venga un po' tanta gente e che gli amministratori rendano la città ancora più vivibile che ne abbiamo bisogno. Ho visto che sono contenti tutti, destra, sinistra, centro, una volta questa cosa ha riunito tutti, insomma, perché l'Aquila di Sordi siamo divisi da sempre. Tra le tante cose negative, tra terremoti e quant'altro, una cosa buona ci sta. Sarà un vantaggio per la città questo? Me lo auguro, me lo auguro. È una cosa bellissima, finalmente gliel'abbiamo fatta. Nonostante qualcuno pare la cosa non gli aggrada, ma per quanto mi riguarda sono felicissimo. La città potrà avere grandi benefici? La città avrà sicuramente grandi benefici. L'importante è adesso rispettare i programmi e i proposti e quindi andare avanti così fino al 2026. Reteotto è andata a fare un giro in centro storico, anche per vedere l'aria che tira tra i commercianti aquilani. A me personalmente è molto, moltissimo. Secondo me sarà una grandissima opportunità per la città, per i giovani della città, per questo centro che comunque è un pochino in sofferenza e questo lo sappiamo. Sono felicissimo per tantissime cose. Calcoliamo che 15 anni fa abbiamo avuto una delle storie più terribili della città e adesso siamo città della cultura. Un passo avanti, un passo enorme, gigantesco, sia per la città che per i cittadini. Ecco, per il commercio pure sarà importante perché insomma arriveranno tante persone qui. Sì, certo, arriveranno tante persone. Ci sta tempo e quindi avremo la possibilità di prepararci piano piano. Una felicità immensa.